Adesso possiamo continuare il nostro pomeriggio con un prossimo intervento altrettanto interessante, è un intervento sul design inclusivo tra finalità e metodologia, tra Victor Joseph Papanek, inclusive a Luto Stanca e Immanuel Casto e ci parlerà Manuele Forcucci che è il project manager e experience designer presso Tangible. Io vi ricordo sempre che potete fare qualsiasi domanda su chat di YouTube o su Slack, sul canale di Track1 e lascio la parola a Manuele. Grazie Roby, ciao a tutti. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi ancora per l'ospitalità, per aver fatto in modo che l'evento si tenesse nonostante appunto le circostanze attuali. Quindi siamo riusciti a mantenere il distanziamento sociale, ma non abbiamo rinunciato alla vicinanza e questa è la cosa più importante. Sì, allora, oggi pomeriggio, in questi prossimi 40 minuti circa, vi parlerò di come Intangible abbiamo, anzi stiamo, attuando un percorso di design inclusivo e di implementazione all'interno dei nostri progetti. Io mi presento proprio molto velocemente, sono Manuele Forcucci, sono appunto project manager e experience designer in Tangible. Siamo un'azienda di experience e service design, l'ha presentata questa mattina Nicolò in apertura della giornata. Non vi tedio più di oltre su cosa facciamo, potete andare a vedere ovviamente tutto quello che facciamo sul nostro sito tangible.is e vedrete appunto i progetti che portiamo avanti per progetti con aziende più o meno grandi. Allora, innanzitutto immagino che alcuni di voi che conoscono bene il personaggio si staranno chiedendo ma che cosa ci fa Immanuel Casto nel titolo di un talk all'interno di una track dedicata all'accessibilità. Per chi non lo conosce invece, quello che vi posso dire è che Immanuel è un cantante italiano, si è autodefinito il principe del porn group e la sua musica è musica dance, con testi piuttosto ironici, dissacranti, anche a contenuto sessuale esplicito. Però su Facebook si espone spesso in delle riflessioni che sono anche piuttosto profonde. Il talk è stato sostanzialmente ispirato in maniera indiretta da quello che è stato un post che ha scritto qualche mese fa, nel merito del post che è un lungo post che poi vi linkerò anche sulle slide e sulla trascrizione del talk. Fa delle riflessioni piuttosto interessanti riguardo proprio il tema dell'inclusività e lo fa facendo un riferimento specifico alla comunità LGBT, ma il senso di ciò che scrive, ed è anche lui a dirlo, potrebbe essere generalizzato, estrapolato e riportato in qualsiasi tipo di comunità. Il passaggio sul quale mi voglio concentrare è questo, ed è, e dice, l'inclusività, un valore per quale tutti dovremmo batterci, non rappresenta una finalità, bensì una metodologia. Intendere l'inclusività come finalità significa aspettarsi che in un qualsiasi ambiente di lavoro, ad esempio un'officina meccanica, se ci sono 20 lavoratori, ci siano esattamente 10 uomini e 10 donne, di cui 9 eterosessuali e 1 omosessuale, 8 bianchi e 2 dietrine diverse, perché la distribuzione demografica è questa. Se questa aspettativa viene disattesa, si dirà che il ditatore di lavoro è sessista, omofabo e razzista. Ci sono politici che propongono questa visione. Prendere invece l'inclusività come metodologia significa invece aspettarsi che le persone non vengano valutate in base a caratteristiche congenite, ma bensì in base al merito e alle competenze, a prescindere da tutte le caratteristiche rilevanti per la professione. Questo tipo di passaggio mi chiede perché il tema dell'inclusività è un tema che è relativo anche a quella che è la mia comunità di riferimento, quella dei designer, in cui appunto il tema del design inclusivo è molto caldo, si fa un gran fioriere di talk, di post, di toolkit, di libri al riguardo. E quindi mi ha colpito molto il passaggio in cui parla di inclusività da finalità a metodologia, perché appunto capovolge un paradigma. Questo passaggio in me sostanzialmente ha stimolato due domande, sono queste, sono quelle che poi andranno a seguire il filo logico di tutto il talk. Innanzitutto che cosa comporta considerare l'inclusività come metodologia e non come finalità quando progettiamo? E in secondo luogo, in quanto facilitatori di processi di progettazione centrati sulle persone, cosa intendiamo quando diciamo che includiamo? Quindi che cosa significa davvero includere? Allora, io su questo, quello che farò, sostanzialmente cercherò di portare sul tavolo tre cose. Il primo è una riflessione, parte un po' da una cosa che ho imparato poi facendo questo lavoro, che l'inclusione ha bisogno di un approccio olistico al design. In secondo luogo vi presenterò un caso di studio, ma più che altro sono degli input, sono emersi a partire da quello che è stato il tema dell'accessibilità, che è stato affrontato durante un progetto di larga scala, che è stato il progetto che abbiamo fatto di re-design del sito dell'aeroporto di Bologna, Intangible. E infine chiudo con qualche consapevolezza in più che ci ha portato questa esperienza. Come vi dicevo prima, appunto, parto da questa convinzione, l'inclusione ha bisogno di un approccio olistico al design. Che cosa significa? Allora, innanzitutto ripensiamo un po' a come abbiamo inteso la parola design fino a poco tempo fa. Questo, per chi lo conosce, si chiama Jussi Salif, è uno spremi a grumi ed è stato progettato da Philip Stark, che ha letto i libri di Don Norman, sa che appunto è uno degli oggetti più esemplificativi del fatto che appunto c'è un design che mette avanti l'estetica rispetto alla funzionalità. E questa cosa, quando qualcuno gliel'ha fatta notare a Philip Stark, lui ha risposto, ma guarda, questo non è proprio uno spremi limoni, piuttosto è un oggetto che serve a far partire delle conversazioni. Ecco, questa è una risposta che rappresenta in maniera molto plastica il modo in cui abbiamo concepito il design fino a qualche tempo fa. Quella parola design era riconducibile principalmente alla caratteristica intrinseca dell'oggetto, un oggetto di design. Per Stark quindi non è l'usabler's azione, ma l'estetica. Nonostante sia stato messo nel mercato nel 1988, qualche anno prima, precisamente nel 1972, è uscito questo libro, che è un libro che a chi non l'ha ancora fatto ti consiglio vivamente di leggerlo, perché è appunto un riferimento ancora molto importante per chi si occupa di fare progettazione. Ed è Design for the Real World di Viktor Papanek, che era un designer statunitense di origini austriache. Lui in sostanza inizia a sovvertire un po' di paradigmi rispetto innanzitutto a quello che è il campo del design. Cioè il design ha un ruolo nella società ed è appunto un... Papanek dice che è uno strumento estremamente innovativo, creativo, cross-disciplinare e che si deve adattare a quelli che sono i bisogni delle persone. Deve essere maggiormente orientato verso la ricerca. Dobbiamo smetterla di popolare il mondo di oggetti e di strutture che sono mal progettate. Questo lo dice nel mezzo di un'era degli anni 70 in cui i confini tra arte, artigianato e design erano piuttosto labili e c'era anche appunto una concezione del designer che era molto diversa rispetto a quella che abbiamo oggi. Il designer per Papanek deve incominciare un po' a togliersi dallo scranno e così a non avere più intorno a quell'aura di Deus ex machina, di problem solver creativo, ma piuttosto attorno alla figura del designer bisogna incominciare a costruire un po' un perimetro di responsabilità civile e morale. Cioè il designer ha responsabilità civile e morale rispetto a ciò che progetta, quindi a ciò che rilascia in un ambiente, in una società. Quindi Papanek in sostanza ci dice designer, incominciate appunto a togliervi questo, a togliervi gli incensi che vi piovono addosso e piuttosto incominciate ad approcciare la progettazione in una maniera un po' più empirica, più olistica. In 40 anni che cosa è successo? È successo di tutto, siamo passati appunto dal concetto di human-centered design e nel frattempo siamo arrivati al design delle interfacce, quindi dal design che era appunto una componente materiale delle cose, siamo arrivati al design immateriale, ma che comunque ha degli effetti, perdonate il gioco di parole, tangibili sulle persone. E attorno a quelli che sono i processi di progettazione digitale, uno dei concetti più recenti e più importanti che sono nati attorno alla progettazione digitale è quello di atomic design, che è un concetto che viene appunto esposto nell'omonimo libro da Brad Frost. Lui che cosa ci dice? Designer, incominciate a buttare via i vostri file Photoshop e incominciate ad approcciare alla progettazione in una maniera molto più olistica, incominciate a ragionare in un'ottica in cui i componenti dei vostri design crescono in maniera da atomica a molecola, organismo, fino a comporre dei template e delle pagine. E quindi tutti questi elementi che cosa fanno? Sostanzialmente sono degli elementi interconnessi all'interno di quelli che sono i design systems, i sistemi di design. E quindi sono elementi che appunto coesistono all'interno di un sistema come persone che coesistono all'interno di una società. Aggiungo un ulteriore punto di vista su questa cosa e lo faccio citando un talk che ho avuto la fortuna di assistere dal vivo l'anno scorso ad Helsinki, ed è quello di Tatiana Mack. Vi consiglio vivamente di andarlo a vedere perché porta veramente un punto di vista ulteriore è molto interessante rispetto a quella che è la progettazione di design system. In particolare quello su quale pone l'obiettivo Tatiana è che occorre concepire questi sistemi in un'ottica che colleghino quelli che sono gli intenti della progettazione di ogni singolo atomo del design e bisogna correlarli in maniera più sistemica proprio perché fanno parte di sistemi lasciati nelle comunità. Questi prodotti vanno a finire in delle società vengono utilizzati dalle persone. E quindi c'è come dire in design system si ricongiungono molto al fatto che anche rispetto a quello che diceva Victor Papone che il design è politico. Quindi il design in quanto uno strumento di trasformazione sociale ha una forte caratteristica politica e ogni scelta progettuale che facciamo che sia più o meno intenzionale è politica applicata e in questo caso lo è un atomo alla volta. Papone diceva già nel libro Design for the Real World sempre la visuale del designer è sempre molto limitata quando progetta la progettazione lascia sempre indietro tutta una serie di sottoproblemi che causeranno comunque i prodotti che andiamo a mettere nelle società. Se inventiamo l'auto stiamo dando sicuramente la possibilità alle persone di muoversi più agilmente ma dall'altra parte stiamo inventando anche l'incidente stradale quindi stiamo aumentando in maniera non intenzionale ovviamente quelli che sono i rischi di pericolo. Continuiamo a farlo tutt'oggi quando progettiamo in maniera non intenzionale e facciamo degli errori in maniera non intenzionale li escludiamo in maniera non intenzionale quando progettiamo interfacce digitali. Nel 2020 possiamo ad esempio discutere se sia più o meno intenzionale per un social network come Facebook che al suo interno ha due miliardi di persone quindi è rappresentativo di una complessità enorme. Continuare a considerare ad esempio il concetto di genere da un punto di vista binario, biologico, maschio-femmina quando invece è sempre più importante più multisfaccettato ad esempio il fattore identitario. che sia più o meno intenzionale è una scelta comunque che potremmo definire by design quindi di progettazione su sistemi molto più grandi quando andiamo a progettare servizi come quello di Amazon Prime Free Sunday Delivery ossia la consegna in giornata di Amazon Prime ad esempio succede che nel 2016 quando è stato attivato il servizio il servizio è partito in delle città americane nelle grandi metropoli americane e la razio secondo la quale è stato progettato il servizio anzi è stato dato l'accesso al servizio è stato questo cioè vediamo quali sono le aree dove si concentra la maggior parte di utenti Prime facciamolo partire da lì cosa succede? che nelle aree dove ci sono maggiori utenti Prime sono aree residenziali popolate principalmente da persone bianche e quindi questo che cosa ha fatto? ha creato sostanzialmente quello che è un esempio di redlining ossia ha tolto ha creato una segregazione vera e propria ha precluso l'accesso a tutti i quartieri più poveri a maggior concentrazione di persone di etnia afroamericana questa cosa quando se ne sono accorti con un articolo inchiesta di Bloomberg poi ovviamente Amazon ha detto no ma figuriamoci non stiamo considerando i nostri servizi secondo una questione razziale piuttosto la razio appunto è stata quella di vedere dove erano principalmente i nostri utenti Prime però di fatto ha creato una situazione che si era già creata però in questo modo intenzionalmente già negli anni 30 da quello che era il redlining ossia proprio escludere da certi servizi le aree delle città che erano a maggior concentrazione afroamericana quindi escludendole alzando di molto il costo dell'accesso ai servizi ecco in tutto ciò i sistemi sono molto complessi e quello che possiamo fare noi quando progettiamo è appunto cercare di agire nella miglior maniera possibile in quella che è la progettazione atomica dei nostri prodotti perché appunto in questa progettazione poi quello che progetteremo nell'atomo avrà un intento ovviamente sulla persona quello che possiamo chiederci ma in questa complessità di sistemi è possibile agire affinché essi risultino completamente inclusivi? bisogna vedere ovviamente questi sistemi sono complessi creare atomi escludenti creerà automaticamente dei prodotti delle società escludenti e noi come designer cosa possiamo fare affinché possiamo rendere maggiormente inclusivi i nostri processi? Innanzitutto renderci conto del fatto che rendere accessibile e mettere in relazione appunto le persone e gli atomi che sono appunto le componenti più piccole di quelli che sono i sistemi complessi e poi possiamo agire su alcuni fronti affinché si possa creare appunto una progettazione inclusiva ma progettare in una maniera inclusiva significa tenere conto di tutte le condizioni che ci sono in una società questo lo vedremo più tardi intanto voglio raccontare come intangible abbiamo approcciato al tema dell'inclusione e lo voglio fare appunto raccontandovi un po' quello che abbiamo fatto con il sito dell'aeroporto di Bologna per noi è stata un'opportunità di cominciare a ragionare il tema dell'inclusione a partire del tema dell'accessibilità non vi farò una così una carrellata rispetto a quello delle attività che non solo vi farò una carrellata rispetto alle attività che abbiamo fatto ma voglio portare più che altro degli input che sono stati per noi fondamentali per iniziare questo processo e innanzitutto voglio dare giusto così un po' di contesto noi nel luglio del 2017 abbiamo vinto la gara pubblica che poi da lì a qualche mese ci avrebbe portato a guidare il processo di redesign del sito dell'aeroporto di Bologna che appunto è uno dei principali scalieri in Italia e trattandosi di un sito di pubblica utilità uno dei requisiti necessari è ovviamente la compliance a quelle che sono le direttive sull'accessibilità del W3C che sono poi state riprese appunto dalla legge stanca nel 2004 e sono ritirate per quanto riguarda invece il settore dell'aviazione civile dall'ENAC per noi è stato un progetto molto grande molto lungo che è durato un anno che sta durando tuttora in una fase evolutiva siamo per entrare ad ottobre entreremo nel terzo anno di evolutiva il processo di design appunto si è diviso in due fasi distinte la prima fase è stata una fase strategica di due mesi di design vision in cui abbiamo cercato di capire quanto più quanto più possibile sul dominio ovviamente sugli obiettivi di business del nostro cliente ma ci ha permesso anche di entrare in connessione in contatto con i passeggeri dell'aeroporto attraverso delle specifiche sessioni di ricerca in cui abbiamo capito come un sito come quello di un aeroporto si colloca all'interno dell'esperienza più complessa più multisfaccettata di un viaggio e la parte successiva che è stata quella di lean design appunto la parte di design vision è stata propedeutica poi alla fase di lean design in cui abbiamo poi fatto vero e proprio design quindi abbiamo progettato e sviluppato codice in maniera iterativa e abbiamo ovviamente fatto delle sessioni di test in laboratorio in cui poi siamo andati a testare quelle che erano un po' le aree a maggior valore di business nella necessità quindi per noi di progettare un sito accessibile abbiamo intravisto quindi un'opportunità per introdurre delle fondamenta di progettazione inclusiva e raffinare quelli che sono i nostri processi di progettazione e sviluppo quindi abbiamo cercato di fare un po' il miglio extra oltre alla sola ottemperanza delle leggi e vi racconto quelli che sono stati per noi tre fattori fondamentali su questo progetto e di conseguenza sul team innanzitutto è stato fondamentale aprirsi verso la comunità esterna cioè il processo di inclusione si è innescato una volta e lo è stato da subito ovviamente che per tutto il team fosse chiaro che l'accessibilità non poteva essere trattata in una maniera scissa dalla progettazione e delegato solamente al codice per un'azienda che fa design centrata sulle persone che fa appunto ricerca con le persone la condizio sine qua non per poter prevedere un processo simile era appunto quello di includere le persone all'interno dei processi e farlo con le persone che abbiamo individuato come potenzialmente più penalizzate dai processi quindi per noi è stato necessario aprirsi verso l'esterno e questo frangente per noi è stato fondamentale il contributo della sede territoriale di Brescia dell'Unione Italiana Cecchi particolare nella persona di Roberto Burceni che per noi è stato come lo chiama una scrittore di ricerca di design che amo tantissimo che si chiama Ian Cicci per noi è stato il fixer ossia quella persona che in un contesto che tu devi andare a conoscere opera da gancio e lo chiama da sense maker culturale da mediatore è una persona che ti introduce in quel contesto e ti permette anche di capire delle cose che altrimenti non capiresti e attraverso il suo contributo abbiamo quindi potuto organizzare una sessione esplorativa all'interno del laboratorio didattico della sede Bresciana dell'Unione Italiana Cecchi durante questa sessione ho svolto io e il mio collega Antonio il nostro sviluppatore front-end abbiamo coinvolto cinque persone che avevano diverse condizioni di cecità e di povisione di povisione con diversi gradi di severità e l'abbiamo fatta interagire con quella che era la precedente versione del sito a partire da quello che era uno scenario verosimile di consultazione per noi questo è stato un'esperienza che appunto aprirci a questo tipo di esperienza ci ha permesso di portarci a casa sicuramente un bagaglio enorme di evidenze e di informazioni che riguardavano il vecchio sito quindi ci ha mostrato un sacco di campanelli ai quali stare attenti mentre progettavamo e sviluppavamo ma è stato anche fondamentale perché ci ha permesso di capire anche molte cose sui nostri processi innanzitutto ci ha permesso di toccare con mano che le variabili che influiscono sull'esperienza di navigazione di un sito così ricco di informazioni come quello di un aeroporto da parte di persone con disabilità visive sono molte le variabili ciascuna persona aveva ci siamo resi conto che appunto ciascuna persona aveva diversi modi di navigare il sito da chi utilizzava lo screen reader piuttosto che chi scorreva tutte le pagine si faceva una mappa mentale di cosa c'era nel sito chi utilizzava lo strumento rotore voiceover chi in condizioni di ipovisione alternava lo zoom con con lo screen reader osservare dal vivo quelle che erano le loro interazioni col sito ci ha messo di fronte quindi davanti a una serie di limiti che erano nel codice nel design del sito ma anche nelle normative ad esempio la cosa più eclatante per me è stato scoprire che appunto la pagina assistenza speciale all'interno del sito era che dal punto a un punto di vista così di pura compliance alla legge era assolutamente a norma ma ci siamo resi conto che essendo messa in fondo al footer del sito e quindi veniva letta in maniera sequenziale dallo screen reader come ultimo elemento dopo i credits questa cosa ci ha portato davanti a quelli che possono essere anche a volte i limiti delle normative inoltre ci ha reso consapevoli del fatto che appunto trascurare l'accessibilità in termini di progettazione e sviluppo ha un impatto estremamente notevole sul tempo di esecuzione di un task per una persona che è in condizione di disabilità visiva infine dal punto di vista dell'impostazione della ricerca per noi è stato anche un po' un momento piuttosto rivelatorio su quanto per noi è a volte anche così difficile toglierci uscire un po' dai bias e trattare la diversità in una maniera che sia inclusiva banalmente per noi ci siamo resi conto che le parole vedere o leggere per una persona che è in condizione di disabilità visiva si possono dire e quindi per noi è stato anche fondamentale per come rappresentiamo poi i risultati della ricerca che appunto ci ha messo in condizione di poter essere più inclusivi nella rappresentazione dei risultati in secondo luogo vi voglio parlare del fatto che un altro fattore molto importante è stato quello di prendere ciò che avevamo imparato attraverso la ricerca e quindi di renderlo intenzionale durante il processo e quindi un fattore importante è quello di rendere intenzionale l'inclusione il bagaglio che ci siamo portati a casa ci ha permesso di ampliare notevolmente il raggio di intervento rispetto a quelli che erano i bisogni emersi con queste premesse per noi è stato poi automatico riportare nei nostri processi di co-design di co-progettazione l'attenzione su quei bisogni che erano emersi durante durante la ricerca e per noi sono stati tradotti poi in intenzioni vere e proprie di progetto e ci hanno permesso appunto di affrontare l'inclusività anche in una maniera molto più ampia sull'architettura informativa che abbiamo strutturato seguendo una metafora che è quella del percorso in cui c'è ciascun tipo di bisogno relativo al viaggio e ciascun anche bisogno particolare che vada appunto dall'assistenza speciale per un passeggero a ridotta mobilità ai bisogni che ha una famiglia all'interno dell'aeroporto fosse incanalata verso il reperimento delle corrette informazioni abbiamo ovviamente reso intenzionale dal punto di vista tecnico quelle che sono le implementazioni di design accessibile l'abbiamo fatto direttamente all'interno del nostro design system sviluppando del codice non solo seguendo le linee guida del VCAG quindi testo accessibile testi alternativi sulle immagini skip link ma anche seguendo dei principi di progressive enhancement e di scrittura semantica del codice e inoltre anche per quello che riguarda la rappresentazione dei passeggeri quindi quello che è il linguaggio visivo abbiamo preferito di delegare verso delle illustrazioni che sono uno strumento molto più inclusivo rispetto alle immagini la rappresentazione degli scenari e c'è un bellissimo articolo sul nostro sito del mio collega Paolo che appunto ha spiegato perché ad esempio nell'illustrazione è stato scelto il giallo che è un non colore che appunto come lui dice omologa per non differenziare perché appunto è capace di rappresentare in una maniera neutra etnie e religioni e condizioni particolari infine per quanto riguarda proprio quello che è stato il processo di design intero abbiamo fatto anche un'ulteriore sessione di test una volta che il sito era stato già rilasciato in cui siamo andati a misurare l'accessibilità non solo da un punto di vista quantitativo che quello lo abbiamo fatto con strumenti come appunto Site Improve ma siamo andati anche a misurare qualitativamente il valore dell'accessibilità nel sito e l'abbiamo fatto sempre coinvolgendo la comunità dell'Unione c'è chi di prescia tutto questo lavoro per noi è stato importante anche perché dal team che ha lavorato sul progetto era importante allargare la conoscenza del dominio rispetto alla leadership culturale rispetto al tema dell'inclusività per noi avere un DNA di progettazione human center è un vantaggio competitivo perché appunto ci permette di entrare in diretta connessione con quelli che sono i bisogni delle persone e l'esperienza di questo progetto appunto non solo per noi che abbiamo seguito il progetto del sito di aeroporto ma per tutto il team tangible è stata appunto un'occasione per incominciare a portare valori nuovi e cultura nuova rispetto ai nostri processi e processi per essere immaginati e per essere rivisti hanno bisogno comunque anche di prospettive nuove che escono fuori un po' dalla tua bolla e quindi anche di nuove conversazioni e per noi questi sono stati stimoli che ci hanno aiutato anche ad aprirci verso le comunità esterne non solo coinvolgendoli all'interno dei nostri progetti che è un approccio che poi abbiamo e stiamo continuando provando a portare su altri progetti ma anche in quei momenti che per noi sono di forte ispirazione sono i momenti in cui noi mettiamo la testa fuori dall'ufficio e apriamo le porte dei nostri spazi per eventi come quello che abbiamo fatto nel novembre 2018 in collaborazione con Unione Cechi e ancora Universal Access che era appunto il Tangible Morning in cui abbiamo parlato di accessibilità ma anche gli eventi che stiamo portando avanti quest'anno che si terranno ovviamente tutti da remoto in cui stiamo affrontando temi come appunto l'invecchiamento della popolazione l'informazione nell'era della post-verità immaginare un futuro più inclusivo queste sono conversazioni che a noi poi ci permettono di ampliare il bagaglio di argomenti sui quali ci confrontiamo e su questi si formano poi i valori di una comunità si formano i valori di un team sono quei valori che poi muovono la progettazione muovono il modo in cui fai questo lavoro noi di solito li fissiamo nel nostro strumento di conoscenza interna che si chiama Playbook che è un hub di conoscenza condivisa ma è anche un punto in cui fissiamo i nostri principi che ci guidano e li fissiamo con la consapevolezza che questi principi sono liquidi che si devono adattare ai tempi ovviamente non sono scolpiti nella pietra perché appunto i principi sono cose che dalle persone poi si si propagano come un'onda e quindi in questo senso per noi intendere l'inclusione è stata una coltivazione di una leadership culturale che dalle persone si appunto che le persone creano cultura che poi si diffonde ad onda sui processi sugli strumenti e ovviamente avranno un impatto sui progetti detto ciò come avrete potuto notare da questa esperienza l'approccio al design inclusivo è un processo ancora in fieri e lo sarà per sempre per tutto il ciclo di vita dello studio e per noi è partito con questo progetto è partito da un requisito di legge che appunto ci ha permesso di capovolgere il paradigma dell'inclusione da finalità quindi progettare un sito accessibile a metodologia cioè cerchiamo di portare dentro i nostri processi delle fondamenta per creare dei processi più inclusivi per questo progetto abbiamo approcciato al tema dell'accessibilità coinvolgendo nei processi solamente persone con disabilità visive probabilmente avremmo dovuto ampliare anche il focus dedicando l'attenzione ad altre tipologie di disabilità o di condizioni questa cosa fa emergere una grossa domanda di fondo ed è quella che facevo prima design inclusivo significa progettare tenendo conto di tutte le condizioni in una società è una domanda abbastanza complessa non esistono particolari risposte che sono in grado di considerare degli approcci o degli strumenti che sono pienamente inclusivi se lo domanda anche il Benjamin Evans che è l'inclusive design director di Airbnb qui dice c'è un'intervista un podcast molto interessante su designbetter.co che appunto è il lab ispirazionale di InVision in cui lui dice io cerco di fare una cosa quando viaggio cerco di medesimarmi quanto più possibile nell'esperienza di viaggio e ampliare il raggio del mio pensiero e chiedermi ma chi stiamo tralasciando chi stiamo escludendo da questo tipo di esperienza e probabilmente la risposta è che qualcuno saremmo sempre lasciando indietro e come possiamo gestire questa cosa c'è un tema molto caldo ancora all'interno di quella che è la comunità dei designer che è quello della progettazione etica abbiamo visto appunto che progettare servizi digitali può portare delle escalation assolutamente non intenzionali e non previste di batter di ciglia passare dalla progettazione di un'applicazione a pericolosi strumenti di disgregazione di esclusione sociale stiamo parlando in questi giorni quando parliamo ad esempio dell'app in Muni ci chiediamo quali tipi di scenari apre non previsti e magari non effettivamente non esattamente intenzionali ma che possono essere appunto magari pericolosi e delicati questo campo una delle voci più attive è quella di Mike Montero nel 2018 ha scritto questo post che è stato molto discusso molto condiviso poi è stato un po' il preludio al suo libro che si chiama Ruined by Design in cui lui in maniera tra il serio e il provocatorio ha detto ma perché non istituire una qualifica un codice etico anche per i designer così come il giuramento di Ippocrate regola l'etica e la deontologia dei medici beh è un tema abbastanza può darsi sicuramente interessante l'input però apre tutta una serie di domande Sennett Bowles ha scritto un libro molto interessante che si chiama Future Ethics in cui lui sostiene fondamentalmente che qualsiasi tipo di codice di normativa etica da costruire attorno alla figura del designer invece è controproducente dice i codici le regole sono funzionano quando devono censurare dei comportamenti sbagliati sono meno efficaci quando ne devono ispirare dei comportamenti positivi quindi è piuttosto meglio concentrarsi su quelli che sono i principi i valori che guidano le persone quando progettano e fare attenzione a cosa innescano anche perché appunto i principi sono liquidi si adattano più velocemente alle circostanze ai tempi le leggi i codici a volte rimangono a volte rimangono anche nel tempo per complicare le cose su questo le leggi che complicano e che complicano la realtà ad esempio sono un tema che sono nel libro di Harari molto interessante che Sapiens in cui parla di una legge in cui che rimassa in Israele che diceva durante la guerra come si doveva preparare un budino e questa legge è rimasta e ha creato un sacco di complicazioni sociali questo è un tema molto interessante e ad ogni modo il tema dell'etica è un tema particolare delicato c'è un saggio che ho recentemente scoperto che è questo che si chiama Moral Saints l'ho scoperto casualmente leggendo un articolo su Internazionale dice di una filosofa che si chiama Susan Wolf e dice una cosa piuttosto interessante dice oltre ad essere impossibile è molto pericoloso anzi è sbagliato ambire alla ricerca di una vita vissuta nella maniera moralmente più ineccepibile possibile e aggiungo che progettare anche con il fine di ambire un design più etico inclusivo possibile cercando di includere tutti potrebbe essere anche un obiettivo da evitare controproducente specie se si cerca di normare un'etica comune con il controllo di quella che è la complessità della società tramite dei codici professionali questo progetto che abbiamo fatto in aeroporto ci ha portato delle consapevolezze innanzitutto che appunto l'inclusione come dicevo non è un codice morale in secondo una consapevolezza da accettare che ciò che progettiamo e che poi rilasciamo nella società potrebbe generare non intenzionalmente ovviamente dell'esclusione però possiamo agire su dei fronti e possiamo tenerci pronti e lo possiamo fare lungo tutto il ciclo di vita del progetto quando conosciamo ad esempio in quali progetti ci stiamo andando ad imbarcare individuando quelli che possono essere le categorie più vulnerabili di persone che utilizzeranno i prodotti che andremo a progettare in fase quando facciamo ricerca quindi quando includiamo queste persone questo lo possiamo fare individuando quelle che sono le categorie di riferimento di queste persone coinvolgendo le loro comunità che possono giocare appunto un ruolo prezioso di mediazione culturale infine in fase di progettazione rendendo intenzionale poi l'inclusione rendendolo intenzionale in quelle che sono le nostre scelte di progettazione e facendo in modo che siano quanto più guidate possibili dai bisogni raccolti in fase di ricerca e infine ovviamente quando i nostri progetti vengono al mondo occorre sempre mantenere alta l'attenzione su ciò che succede quindi monitorare quelli che possono essere le criticità ma anche i conflitti che fanno che innescano tenendosi sempre pronti a gestirli a riconoscerli e ovviamente anche a chiedere scusa quando è necessario quindi quando progettiamo non concentriamoci su quante condizioni includere però possiamo prepararci a riconoscere quali potrebbero essere rimanere escluse dalla progettazione perché appunto riconoscerle è un'opportunità questa può dare vita a una cultura di design inclusivo che da spirito comune si può tradurre in una manifestazione diretta io vi ringrazio abbiamo un po' di tempo per delle domande grazie per l'intervento al momento non vedo domande sulla chat di youtube ma avrei io una domanda sì quando hai parlato del sito dell'aeroporto di Bologna visto che l'accessibilità comunque è una cosa in continuo cambiamento è previsto un modo e come è previsto per tenere appunto sotto controllo le varie modifiche se si possono effettuare delle modifiche oppure grazie sì diciamo come dicevo prima la cosa più importante è cercare sempre di includere quindi di cercare di fare ricerca quanto più possibile tenere monitorata la situazione e prepararsi appunto a misurare qualitativamente quella che è l'accessibilità oltre che quantitativamente questo lo possiamo fare con i tool che abbiamo a disposizione però dall'altra parte bisogna sempre rendersi conto di quella che poi è l'esperienza vera delle persone quindi aprirsi al riconoscere al conoscere soprattutto quelle che sono le esperienze che vengono fatte dalle persone quando interagiscono con prodotti complessi è assolutamente è la chiave anche per prendere decisioni migliori certo e sempre un'altra curiosità mia è comunque quando si decide di progettare un nuovo sito web per esempio sicuramente si cerca di tenere davanti insomma più come dire tenere un target più largo possibile di persone ma quali sono le difficoltà nell'individuare visto appunto come ci hai spiegato tu che ci sono vari tipi appunto per esempio per quanto riguarda l'aspetto visivo ci sono vari modi di vedere quindi come come si arriva dalla parte del ricercatore a decidere ok questo sarà diciamo gli elementi con cui andrò a progettare il sito bella domanda e allora di solito noi comunque cerchiamo di stressare questo punto quando andiamo a fare anche ricerca con gli stakeholder con i nostri committenti cerchiamo di avere sicuramente quella che è la loro visione degli utenti cercare di capire attraverso le loro parole se ci sono delle persone che possono venire maggiormente penalizzate dalla progettazione e su questo punto di vista per noi ad esempio il fatto che ci fosse una legge come quella la legge stanca è stata assolutamente importante perché comunque ci ha resi consci di questa cosa ci ha ci ha permesso appunto di affrontarla anche in una maniera che andasse oltre la legge stessa però dall'altra parte i nostri sicuramente i nostri clienti possono anche loro mediare culturalmente rispetto a quello che è la loro conoscenza delle persone certo no davvero molto molto interessante infatti quando avevo letto il titolo nell'agenda anche questo passaggio tra papanec stanca era così per creare della confusione era più che altro molto davvero molto interessante e tu che abbiamo ancora del tempo non so se ci vuoi raccontare altre esperienze altri esempi di siti o di progetti su cui avete lavorato allora diciamo che da quando abbiamo approcciato appunto il tema dell'accessibilità sul sito di aeroporto di Bologna per noi poi è stato appunto un punto sul quale portare attenzione quando andiamo a progettare specie su quei clienti che appunto forniscono servizi a delle fasce molto ampie di popolazione noi abbiamo progettiamo per appunto grande distribuzione organizzata per questo momento stiamo facendo dei progetti per esempio per quanto riguarda la scuola o anche la sanità quindi insomma cerchiamo di stressare di mantenere sempre accese le spie rispetto a quelli che possono essere le conseguenze in attesa di ciò che progettiamo e di renderci quanto più proattivi possibile certo molto interessante allora io ti ringrazio molto per l'intervento e per aver trovato tempo per per venire diciamo nelle nostre case anche in questo periodo di coronavirus grazie a voi grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti